Musica Allora Marco, Irobet, progetto nuovo, progetto nuovo, il logo mi piace molto, ufficialmente lo dico Tu stai rappresentando oggi come innanzitutto appassionato di poker, immagino il marchio ma comunque fai parte di un progetto che ha delle idee molto chiare Vogliamo dare proprio una vetrina ai giovani talenti e chiaramente cercare di raggruppare tutti gli appassionati di poker Come sta andando il torneo? Il tuo torneo? Il mio torneo devo dire che sta andando abbastanza bene, senza troppi alti e bassi E quindi galleggiamo, siamo in Everedge tranquillamente, con uno stack intorno agli 80.000 Va benissimo così, noi ti lasciamo ai tavoli del gioco, avremo tempo di raccontarci un sacco di cose di poker Benissimo, grazie 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 Slippi dolly to the slippy stream